Il Palio del nostro fatto quest'anno sarà il 18 di febbraio, considerato la partenza degli uffizi molto presto, subito dopo la Befana, però sarà un'edizione che spero sia l'inizio di una lunga tradizione che coinvolga San Giovanni e coinvolga i quartieri sangiovannesi, perché abbiamo studiato una manifestazione che coinvolgerà i quartieri cittadini, abbiamo già parlato con le associazioni un po' in rappresentanza dei quartieri stessi, cercare di sviluppare questa grande tradizione che diventi un patrimonio di tutta la città e non solo di una parte di essa. Io credo sia una buona cosa anche per cercare di perpetuare nel tempo questa manifestazione che da una parte coinvolgerà i quartieri, coinvolgerà i cittadini e continuerà anche quest'anno a coinvolgere i ragazzi delle scuole perché sarà un nostro partner dell'Istituto Basare di Figline.